Tommaso Buscetta, nato il 13 luglio 1928 in una famiglia numerosa e umile di Palermo, ha tracciato un percorso che va oltre la cronaca nera, diventando un'icona nella lotta alla criminalità organizzata. La sua storia è un intreccio di vicende personali e crimini che lo hanno portato dall'illegalità giovanile alla leadership nel mondo della mafia. Cresciuto in condizioni di povertà, Buscetta si avvicinò al mondo del crimine già nell'adolescenza, guadagnandosi il soprannome di Don Masino per la sua abilità nell'organizzare attività illegali nel mercato nero. La sua fama a Palermo precedette la sua entrata formale nella mafia. Ma fu solo il principio di una carriera criminale che lo condusse a diventare una figura di spicco nella Cosa Nostra. Le sue azioni coinvolgevano una serie di attività illegali, dal furto di generi alimentari alla falsificazione di documenti per il razionamento della farina, un'abilità che lo mise in evidenza nella sfera criminale locale. L'ascesa di Buscetta all'interno della mafia siciliana fu rapida e significativa. Ma la sua vita non è stata solo caratterizzata dalla criminalità. Gli affetti familiari, con quattro figli avuti dal primo matrimonio e altri successivamente, hanno segnato una parte importante della sua storia personale. Tuttavia, il destino di alcuni dei suoi figli ha gettato un'ombra cupa sulla sua vita. Due di loro furono vittime della terribile pratica della lupara bianca durante la guerra di mafia. Questi eventi dolorosi non solo hanno segnato la vita di Buscetta ma hanno anche contribuito a plasmare la sua percezione della mafia e delle sue pratiche. La svolta nella storia di Buscetta avvenne quando, dopo una serie di eventi, decise di collaborare con la giustizia. La sua decisione di diventare un pentito segnò un punto di svolta nella lotta contro la mafia. La sua testimonianza negli anni Ottanta portò alla massiccia operazione antimafia e alla rivelazione di informazioni cruciali che scossero le fondamenta dell'organizzazione criminale. La sua vita è stata segnata da una serie di relazioni, compreso un matrimonio celebrato in carcere, che hanno aggiunto un capitolo controverso alla sua biografia. Il suo coinvolgimento con diverse donne in varie fasi della sua vita ha contribuito a creare un quadro complesso della sua personalità. La vita di Tommaso Buscetta si snoda come un intricato labirinto attraverso continenti, alleanze e sfide, tessendo una trama complessa di crimine organizzato, intrighi politici e un percorso personale ricco di alti e bassi. Il suo ingresso ufficiale nella Cosa Nostra nel 1945, a soli 17 anni, sancisce l'inizio di una carriera criminale che si espande ben oltre i confini di Palermo. Dalla sua abilità nel mestiere di fabbricazione degli specchi, appreso dalla famiglia, alle operazioni di contrabbando di sigarette e stupefacenti, Buscetta si afferma come figura di rilievo nel sottobosco criminale dell'epoca. Le sue vicende personali si intrecciano con i movimenti della mafia in Argentina e Brasile, dove tentò di stabilirsi creando attività imprenditoriali. Tuttavia, le difficoltà economiche e il mancato adattamento della moglie portarono a continui ritorni a Palermo, dove, insieme al fratello, aprì un nuovo laboratorio. Le sue frequentazioni all'estero, in particolare a Buenos Aires, svelano connessioni con mafiosi di rilievo come Angelo Labarbera, Salvatore Greco e Gaetano Badalamenti. Queste relazioni consolidarono la sua posizione nel mondo criminale, portandolo a essere coinvolto in attività illecite di contrabbando e a guadagnarsi una reputazione come sicario e gregario. I suoi guai legali non furono pochi, arresti, condanne e la sua breve permanenza in carcere costituirono tappe cruciali nella sua storia. Tuttavia, ogni volta che tornava in libertà, sembrava ricomporre i pezzi del suo puzzle criminale, stabilendo contatti con importanti famiglie mafiose come i Greco di Ciaculli e i Corleonesi, tra cui spiccano Luciano Liggio e Totori Ina. La sua presenza all'interno della cosiddetta commissione, l'organo che avrebbe strutturato la gestione della Cosa Nostra, testimonia la sua aspirazione a un'organizzazione più coesa e gestibile. La proposta di un governo interno per evitare divisioni e garantire una gestione pacifica degli affari segna un punto di svolta nella storia della mafia. Le sue relazioni con boss mafiosi italo-americani come Charles Lucky Luciano e Joe Donnes evidenziano la portata internazionale delle sue connessioni. La vita di Tommaso Buscetta è un labirinto di alleanze, scontri e fuga costante, intrecciata con la violenza e l'intrigo della mafia. Il suo coinvolgimento nei conflitti interni alla Cosa Nostra, la fuga all'estero e le sue complesse relazioni familiari sono episodi che hanno definito una parte oscura e tormentata della storia della mafia siciliana. L'omicidio di Calcedonio di Pisa nel 1962 scosse la tranquillità della Cosa Nostra, dando il via alla prima guerra di mafia. Buscetta si trovò in una posizione delicata, schierandosi dapprima con Ila Barbera, sospettati dell'omicidio, e successivamente con Greco, ma cercando sempre di rimanere nell'ombra per evitare di diventare un bersaglio. Tuttavia, finì nel mirino della violenza mafiosa e, in un agguato a Palermo, riuscì miracolosamente a sopravvivere investendo i due sicari che stavano per ucciderlo. Le accuse e i sospetti delle forze dell'ordine verso di lui si fecero sempre più gravi, collegandolo a vari omicidi, inclusa la strage di Ciaculli. Sebbene in seguito Buscetta avrebbe affermato di essere stato coinvolto solo marginalmente, accettando un incarico che poi venne anticipato da altri. Dopo la strage di Ciaculli, con la polizia alle Calcagna, Buscetta intraprese una fuga internazionale, prima in Svizzera e poi in Messico con la sua amante Vera Girotti, dando vita a una nuova vita clandestina e alla nascita della loro figlia Alessandra. La sua avventura lo portò successivamente in Canada e poi negli Stati Uniti, dove cercò di rifarsi una vita aprendo una catena di pizzerie. La sua situazione personale si fece sempre più intricata quando, nel 1966, chiese alla moglie Melchiorra e ai figli di raggiungerlo a New York, portando alla luce la sua doppia vita, divisa tra due famiglie inconsapevoli l'una dell'altra. Nel 1968, in contumacia, Buscetta venne condannato a dieci anni di carcere per associazione per delinquere, ma venne assolto dalle accuse relative alla strage di Ciaculli per insufficienza di prove. Nel 1971, la Commissione parlamentare antimafia lo identificò come uno dei principali boss mafiosi della nuova generazione, acquisendo una lettera che testimoniava il suo coinvolgimento a livello politico, aggiungendo ulteriori elementi alla sua figura controversa. La vita di Tommaso Buscetta è stata un percorso tortuoso di crimine, fuga e compromessi politici, segnata dalla sua partecipazione in intrighi che hanno coinvolto sia il mondo della mafia che la politica italiana. Nel 1970, Buscetta fu coinvolto in riunioni segrete insieme a Salvatore Greco per discutere sulla ricostruzione della Commissione della Cosa Nostra e sull'implicazione della mafia nel golpe borghese. Durante un viaggio a Milano, evitò un arresto grazie a un passaporto falso e cercò rifugio negli Stati Uniti, ma fu presto arrestato e rilasciato su cauzione. In seguito, in Brasile, intraprese un vasto traffico internazionale di droga, organizzando un sofisticato sistema di trasporto aereo. Le autorità brasiliane, nel 1972, scoprirono il suo giro di narcotraffico e arrestarono Buscetta e la sua banda. Nel suo deposito blindato furono trovati grandi quantitativi di eroina, e i suoi complici, sotto tortura, rivelarono il coinvolgimento di Buscetta. Dopo essere stato estradato in Italia, fu sottoposto a interrogatori e torture ma mantenne il silenzio. Condannato a dieci anni di carcere per traffico di droga, vide la sua pena ridotta in appello. Tuttavia, la storia di Buscetta si intrecciò con eventi politici cruciali. Mentre era detenuto a Cuneo, fu avvicinato da Ugo Bossi, legato alla malavita milanese, per mediare il rilascio di Aldo Moro, rapito e ucciso dalle Brigate Rosse nel 1978. Buscetta rivelò in seguito di essere stato contattato per liberare Moro ma senza successo. Le sue dichiarazioni in seguito rivelarono uno scenario oscuro. Buscetta sostenne che la fazione dei Corleonesi all'interno di Cosa Nostra bloccò l'iniziativa di liberare Moro, sostenendo che politici della democrazia cristiana preferissero la sua morte, poiché Moro aveva iniziato a collaborare con le Brigate Rosse, rivelando segreti scomodi per figure politiche come Giulio Andreotti. La vita di Tommaso Buscetta, figura emblematica del mondo criminale italiano, è stata un percorso di fuga, tradimenti e, alla fine, una svolta che avrebbe cambiato la storia della mafia. Dopo essere sfuggito alla prigione nel 1980, 1880, Buscetta si nascose sotto la protezione di capi mafiosi come Bontate e Inzerillo, rifugiandosi in Brasile. La, subì interventi di chirurgia plastica e di modifica della voce, cercando di sfuggire alla caccia della polizia. La sua latitanza fu segnata da tragici eventi. Durante la seconda guerra di mafia, i suoi familiari subirono una serie di vendette trasversali da parte dei corleonesi. Undici dei suoi parenti furono assassinati, e lui stesso fu preso di mira a causa dei suoi legami con membri della mafia palermitana. Nonostante i tentativi di convincerlo a tornare in Sicilia per guidare la riscossa contro i corleonesi, Buscetta preferì lasciare il Brasile nel 1981, portando con sé la famiglia, e tornare in Italia, ma ben presto fu arrestato in Brasile. Questo evento scatenò una serie di tentativi, anche da parte degli Stati Uniti, per ottenere la sua estradizione. La svolta avvenne quando Buscetta accettò di collaborare con la giustizia italiana. La sua decisione di parlare e rivelare i segreti di Cosa Nostra sconvolse il mondo della mafia. Attraverso una serie di interrogatori, rivelò l'organizzazione, i nomi coinvolti, i moventi degli omicidi e le alleanze della mafia. La sua testimonianza aprì una nuova finestra sul funzionamento interno della criminalità organizzata, offrendo informazioni vitali che finora erano rimaste celate a causa dell'omertà che permeava il mondo mafioso. Le sue dichiarazioni portarono a una vasta operazione di polizia, con centinaia di arresti e mandati di cattura eseguiti, sconvolgendo il mondo della criminalità in Sicilia e oltre. Nel settembre del 1992, in seguito agli attentati in cui morirono Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, interrogato a Washington dagli inquirenti palermitani, Buscetta decise di rompere il suo silenzio riguardo ai legami politici della criminalità siciliana. In questo momento ritengo un mio dovere morale dare un contributo alle indagini perché ritengo che ciò sarebbe stato considerato giusto dal dottor Giovanni Falcone, cui, anche in questo momento, vanno i miei più devoti sentimenti di stima e di ammirazione per ciò che ha fatto nell'interesse della giustizia. I tragici omicidi del dottore Falcone e del dottor Borsellino mi hanno colpito profondamente e, dopo dolorosa riflessione, mi hanno indotto a rivedere il mio recente atteggiamento di non disponibilità a rispondere su questi argomenti. Mentre riferiva alla procura di Palermo sui legami con la politica, ammetterà tra le altre cose il coinvolgimento di Cosa Nostra nella misteriosa morte del presidente dell'ENI Enrico Mattei e nella scomparsa del giornalista Mauro De Mauro, che aveva sempre negato a Falcone 61-46. Il 17 novembre venne ascoltato sempre sullo stesso tema dalla Commissione parlamentare antimafia presieduta da Luciano Violante 62. Buscetta spiegò quindi che Cosa Nostra era legata al Partito della Democrazia Cristiana e accusò gli onorevoli Salvo Lima, ucciso qualche mese prima, e Giulio Andreotti di essere i principali referenti politici dell'organizzazione. In particolare riferì di aver conosciuto personalmente Lima fin dalla fine degli anni 50 e di averlo incontrato l'ultima volta nel 1980 durante la sua latitanza. Nonché di aver saputo che l'omicidio del giornalista Mino Pecorelli nel 1979 sarebbe stato compiuto nell'interesse di Andreotti 63-64. Buscetta raccontò anche che nel 1979 Stefano Bontate e Gaetano Badalamenti gli avevano riferito che Andreotti avrebbe chiesto a Cosa Nostra di uccidere il generale. Carlo Alberto dalla Chiesa perché conosceva segreti connessi al caso Moro e suscettibile di infastidire seriamente Andreotti. Forse gli stessi segreti che erano noti a Mino Pecorelli, il giornalista assassinato quello stesso anno. Secondo quanto dedotto dalle mie conversazioni con Bontate, l'omicidio Pecorelli era stato un delitto fatto da Cosa Nostra, e più precisamente da lui stesso e da Badalamenti. Su richiesta dei cugini salvo, richiesti a loro volta dall'onorevole Andreotti. Due anni dopo, nel 1982, Badalamenti mi ripetè in termini assolutamente identici la versione di Bontate. Pecorelli era stato assassinato perché stava appurando cose politiche segretissime collegate al caso Moro. Giulio Andreotti era estremamente preoccupato che potessero trapelare questi segreti di cui era a conoscenza anche il generale dalla chiesa. Lo hanno mandato a Palermo per sbarazzarsi di lui, commentò Badalamenti, non aveva fatto ancora niente in Sicilia che potesse giustificare questo grande odio nei suoi confronti. In effetti, dalla chiesa non aveva avuto tempo di minare seriamente Cosa Nostra. 65. Per via di queste sue dichiarazioni, fu uno dei principali testimoni dei processi a carico di Andreotti per associazione mafiosa e per l'omicidio Pecorelli. 66. Nel 1993, nel cuore delle polemiche sull'incriminazione di Andreotti, il senatore della rete Carmine Mancuso, figlio di Lieny Mancuso, poliziotto assassinato dalla mafia nel 1979, affermò di aver saputo dal padre che Buscetta avrebbe avuto rapporti con il sifar del generale Giovanni De Lorenzo fin dagli anni 60, affermazioni che non furono mai confermate e da cui il portavoce della rete Alfredo Galasso prese le distanze 67-68-69. In difesa di Andreotti, l'ex presidente della Repubblica Francesco Cossiga definì Buscetta un criminale comune al soldo di molte polizie di qua e di là dell'Atlantico 70. Lo stesso Andreotti si difese affermando che le accuse di Buscetta erano una vendetta per aver autorizzato la sua estradizione dal Brasile nel 1984 e tutta. L'indagine nei suoi confronti è frutto di un presunto complotto di origine statunitense per punire l'azione antimafia dei suoi governi 71-72-73-74. Nel giugno 1993 i sostenitori di Andreotti fecero notare che la credibilità processuale di Buscetta era stata messa in dubbio negli Stati Uniti dalla giuria del processo, Iron Tower, che si svolse a New York nei confronti di esponenti del clan Gambino in zerillo spatola, la quale stabilì che Buscetta aveva mentito negando il coinvolgimento di Stefano Bontate nel traffico di eroina. In contrasto con le dichiarazioni di un altro importante collaboratore di giustizia, Francesco Marino Mannoia 75-76. Nel 1996, interrogato dalla difesa di Andreotti nel processo Pecorelli, Buscetta ammise di aver mentito almeno tre volte nel corso degli interrogatori con Falcone, 77. Nello stesso anno, la giornalista inglese Jane Wider pubblicò un documento riservato della DEA in cui si affermava che Buscetta fosse un informatore della CIA dal 1966 ma le autorità statunitensi ne smentirono l'autenticità. 78. Nel 2003 Andreotti verrà infine assolto definitivamente dall'accusa di aver commissionato l'assassinio di Pecorelli perché le accuse di Buscetta furono ritenute non provate. Mentre verrà accertata la sua connivenza per i fatti di mafia anteriori al 1980, prescritti al momento dell'emissione della sentenza. La vita di Tommaso Buscetta, una figura centrale della criminalità organizzata italiana, ha toccato il suo epilogo in un modo che ha riflesso la complessità dei suoi anni di latitanza, fuga e, alla fine, cooperazione con la giustizia. Nel corso degli anni 90, Buscetta ha continuato a catalizzare l'attenzione dei media e dell'opinione pubblica. Una delle sue ultime interviste, condotta nel 1994 dal giornalista Ennio Remondino, mostrava il volto del boss mafioso in penombra, in un confronto tra le sue dichiarazioni e quelle di Gaetano Badalamenti riguardo ai legami tra Cosa Nostra e la politica italiana. Purtroppo, nel marzo del 1995, la tragedia colpì ancora la famiglia Buscetta quando il nipote Domenico venne ucciso da Leo Luca Bagarella, uno degli esponenti di spicco della mafia siciliana. Questo evento sconvolse ulteriormente la vita del già turbolento clan Buscetta. La vita di Buscetta, dopo un breve momento di notorietà legato a una crociera nel Mediterraneo, prese una piega diversa quando manifestò il suo disappunto per quello che percepiva come un fallimento dello Stato italiano nel debellare efficacemente Cosa Nostra. Queste opinioni vennero rese pubbliche in un libro intervista curato da Saverio Lodato, pubblicato nel 1999, che svelava il suo scontento per il non completo smantellamento dell'organizzazione mafiosa. La fine di un'era è arrivata nel 2000, quando Buscetta, malato di cancro, si spense a North Miami, in Florida, negli Stati Uniti, all'età di 71 anni. Una vita segnata da fuga, la titanza e una drammatica collaborazione con la giustizia, giunta al termine in un paese straniero dove aveva trascorso gran parte della sua vita, utilizzando nomi falsi per proteggere la sua identità. La sua sepoltura avvenne sotto un falso nome a North Miami, chiudendo così il capitolo finale della vita di uno dei collaboratori chiave nella lotta contro la mafia italiana. La sua storia, sebbene controversa e segnata da crimini e violenza, rimane un simbolo della trasformazione da boss mafioso a testimone chiave della giustizia, lasciando un'impronta indelebile nella storia della lotta contro il crimine organizzato in Italia.